Nella nostra regione a cui continueremo a dare risposte come promesso durante la campagna elettorale. Mi spiace vedere che Bonaccini non ha perso occasione anche questa sera per fare quello che ha fatto tutta la campagna elettorale, cioè cercare di attaccare e screditarmi. Questo spiace perché io ritengo che la politica dovrebbe essere una cosa costruttiva, ma non abbiamo visto da entrambe le parti questa volontà. Noi continueremo a rispondere a tutte le esigenze delle migliaia di persone incontrate, migliaia di persone che hanno sollevato problemi, che vanno dalla viabilità, alla sanità. Persone che comunque si aspettano queste risposte dalla Lega. Bisogna anche dire che è stato un grande risultato, è storico per me il risultato di quanti siete qua oggi e del fatto che per la prima volta nella storia, dopo 50 anni, questa regione era contendibile. Noi continueremo a lavorare, domani faremo un'analisi e risponderò alle domande sul voto, sul voto in regione. Ringrazio anche tutti voi per la presenza durante questa campagna elettorale, ci vediamo domani mattina. Grazie. Grazie.